Il pass and go è un movimento della palla a furo che di solito fa l'attaccante ricevitore che si trova in posto 5. Immaginiamo adesso di essere un campo da palla a furo, io sono il ricevitore attaccante che riceve la palla, quindi io ricevo la palla e non ho tempo di andare a allargarmi per prendere la rincorsa per poi attaccare, quindi che cosa faccio? Ricevo la palla e col piede destro mi muovo in diagonale per andare a prendere tutta la rincorsa per attaccare la palla, quindi a questo punto faccio destro, sinistro, destro, sinistro e attacco. Grazie 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 Grazie.